Musica Nomi e cognomi innanzitutto? Marco Tortora Circo d'appartenenza? Affari al poker Oggi sei venuto da solo? No, siamo in sette, siamo di Pescara, è una nuova associazione, una buonissima iniziativa, abbiamo fatto un pull ma tutto sponsorizzato e siamo qui per divertirci Raccontaci la tua uscita Niente, la mia uscita ho due o tre, sono di bottone, reso, mi collano tre persone dietro, flop e mi esce il tre Io betto, uno già entra nel piatto con 6 e 9, con 6 e 9 chiude il tris, praticamente mi rilancia, io vado lì in, fa call, mi chiude il pull, full di 6, full di 9 con 6 Com'era il tuo tavolo? Il mio tavolo, un ottimo tavolo, questa persona, la stessa persona, la mano prima, purtroppo mi dispiace, forse era l'unico che, non so se era le prime armi, perché anche prima mi ha preso un piatto di 10.000, io con 2Q sempre di bottone Ho risato, questo mi fa call, praticamente mi fa call con asso 2, asso 2, metto nel flop 4, 4, 3, betto 1.200, lui mi segue, il tarne bianco per lui, io sempre con 2Q, betto 3.000, mi fa call, arriva il catch al 5 e mi chiude la scala Sempre la stessa persona, purtroppo E' la prima volta che partecipi a questo torneio, ovvero che partecipate? E allo Shark io sì, è la prima volta C'è gli altri del tuo gruppo? Sono 2-3 persone che hanno fatto già altri tornei, anche EPT, quindi un po' più esperte forse di me Come ti sei trovato in generale? No, mi sono trovato molto bene, l'ambiente è molto accogliente, le persone molto squisite Hai delle carte preferite? Io sinceramente ho KJ Il portafortuna sul tavolo c'è o non c'è? No, non c'è Benissimo, allora noi ti ringraziamo in bocca al lupo per tutto e ci rivediamo presto, allora, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti